Buona domenica a tutti ragazzi, sono di noi bentornati con il 74esimo episodio delle top 5 plays of the week Oggi siamo qua con un episodio con clips abbastanza particolari, ho deciso di cambiare un po' dato che ne avevo davvero molte Partiamo subito dalla quinta posizione, c'è Stifler che gioca su TCT con le M1 E ci porta una bellissima ma davvero molto molto skillata quad feed con due turn on Poi giocata appunto con le M1 su tutti contro tutti che appunto è molto difficile fare quad feed in più con quest'arma che ormai non è neanche troppo forte Quindi complimenti, quinto posto meritato, passiamo ora alla quarta posizione dove troviamo il track che sta giocando con la CR su Arcaden È situato in una parte abbastanza strana della mappa in quanto è tipo sul balcone fuori E riesce a beccare in uno strano modo questa specie di spawn trap e ci porta, non è proprio spawn trick, spawn kill Però ci porta una 7 man on screen che inizialmente sembra non vedersi Però se bloccate il video almeno a me è sembrato di vedere una 7 man almeno che non ci fosse lo split di quello che ha abbandonato Quindi quarto posto molto molto carino In terza posizione abbiamo with slow o slu non so bene come leggerlo che ci porta a questo stupendo trick shot Da quanto posso capire per nella mia ignoranza mi può sembrare un 720 a cross the map Almeno adesso vediamo si dovrebbe pur essere un 720 se non vado errando A cross the map molto molto bello con window shot quindi penso che abbia ancora più valore Mi è piaciuto davvero molto mi avete mandato tanti trick shots poi li vedrete nelle prossime settimane Passiamo ora alla seconda posizione dove troviamo Vinci che sta giocando con l'XPR Esce su raid, prende 1, 2, 3, 4 con la collatra Le fa una bellissima quad feed Tutti pensano che la clip sia finita Lui si muove, va un attimo avanti 1, 2, 3 Back to back quad feed Bellissima Chi magari fa una clip ogni 8 partite lui ne fa 2 in 3 secondi Davvero molto carino Passiamo ora alla prima posizione del termo fact Dino Che gioca con il type su that match a squadra E' veterano e fa una strage che è qualcosa di bellissimo L'unico difetto è che è stato empato Come vedete è stato effetto di empe quindi non si vedono le feed Poi dopo ci farà vedere l'inquadratura di un altro nemico O di un compagno che vede come sono le feed E vedrete cosa ha combinato Comunque ragazzi giusto per dirvelo Io quando partirò farò le top lo stesso Quindi le farò tutte questa settimana Ovviamente mandatemi tantissime clips Così possiamo appunto farle più facilmente Guardate qua cosa fa Fact Dino Ok 1, 2, 3 Fa una triple feed Poi continua doppia feed Six on Six on screen Poi fa un'altra six on back to back Cioè fa six on per due Non so bene come spiegarlo E poi ne uccide altri tre qua Fa una strage fantastica Davvero bellissimo Quindi ragazzi vi ringrazio Perché mi avete mandato tantissime belle clips Ho deciso di fare una top un po' particolare In quanto non è solo di clips col cecchino Ho deciso di metterne solo una e un trickshot Perché di solito magari mi avete detto Eh metti troppe clips di cecchino e così Vi invito a mandarmi tantissime clips Che ne accetterò tante Perché appunto adesso in questa settimana Devo fare tre tope Quindi capite me ne servono tante Anche se penso di averne già abbastanza Comunque ragazzi Io spero davvero che il video sia stato di vostro gradimento Se è così vi invito a lasciare un bel mi piace Un commento Se ancora lo siete iscrivetevi al mio canale Passate dalla mia pagina facebook E dai link qua stato in descrizione Per oggi da Mirino è tutto E bella